todo modo multi solution travel e hotel a terra d'ostuni istituto di vigilanza securità spuglia scegli 30 40 imprese costruiamo la tua solida realtà xxl music pub i per simpli l'ipermercato più vicino a te vittoria doveva essere vittoria è stata l'olempico stuni batte per nove reti a uno il san video dei normanni formazione approdata quest'anno nel massimo torneo regionale di calcio a 5 la società del presidente daniele andriola nell'ultimo turno di campionato raggiunge il bottino pieno e risale la classifica dopo un pareggio e una sconfitta mister basile si affida all'inizio del match al quintetto formato da busunda tra i pali lisi solidoro ferri e salamida la formazione di casa è determinata e lo si vede già dalle prime battute al terzo giallo blu in vantaggio con lisi che sfrutta al massimo un assist di ferri su calcio di punizione 1 a 0 il raddoppio arriva al venticinquesimo schiavone in becca di giuseppe che non sbaglia e segna il 2 a 0 pochi secondi dopo è ancora ostuni protagonista lisi è un treno mette la freccia e dalla destra dopo il sorpasso infligge alla puglia sport il 3 a 0 con le immagini di alessio casarano passiamo alla ripresa la formazione di vito basile entra in campo certa di voler portare a casa il risultato con un margine di reti abbastanza alto al quarto e ferri a far gioire i suoi tifosi con una prodezza un cucchiaio dal limite dell'area che segna il 4 a 0 l'olimpico stuni poco dopo cala il poker con uno stunese doc mirko saponaro che mette la sua firma sul 5 a 0 al ventitresimo contropiede per lo stuni e altro gol questa volta gonfere la rete è capitano schiavone che segna la rete del 6 a 0 un minuto dopo lisi serve sul calcio di punizione ferri che manda la difesa ospite in out risultato ancora parziale e fermo sul 7 a 0 la segra del gol non è ancora conclusa e al palavito gentile al ventottesimo sul nostro tacquino annotiamo anche la rete del giovanissimo zigrino che segna l'8 a 0 le reti per l'orimpic si chiudono al 32esimo con un destro potente di armando barnapa che dalla distanza fa partire un destro la palla si stampa sul palo e termina in rete 9 a 0 nei titoli di coda del match il gol della bandiera della formazione ospite termina 9 a 1 per i padroni di casa soddisfatto nel post gara coach vito basile c'è stata un'ottima reazione da parte dei ragazzi anche se le due partite precedenti abbiamo fatto forse abbiamo giocato addirittura meglio della partita di oggi però l'importante oggi erano i tre punti tre punti sono stati e ci rimettiamo sotto con la testa col duro lavoro per per cercare di tornare il più in fretta possibile nella nella zona alta della classifica e solo col lavoro possiamo continuare a migliorare a crescere quindi pensiamo già alla partita di sabato che sarà una un'altra nuova battaglia come hai detto tu il monopoli è una squadra forte ha fatto quattro punti nelle prime due partite quindi è una squadra allestita per per stare nelle parti alti della classifica sapevamo di dover dare una risposta oggi e così è stato abbiamo avuto solo un giorno per prepararci al al meglio a questa partita e tra virgolette abbiamo avuto anche la fortuna di giocarla nuovamente in casa la soddisfazione più grande è quello di vedere un grande gruppo si collabora ci si passa il pallone c'è tanta coesione assolutamente sì credo che possiamo sempre andare a migliorare sotto questo punto di vista però siamo sicuramente un bel gruppo grazie a tutti